L'attività di marketing è stata, la parte più importante è stata definire un piano di marketing che poi ha comportato un allineamento di tutte le aziende anche sul sito e mail che mandiamo legato a questo e anche tutto un discorso legato anche alla forza commerciale di allinearlo su tutto questo piano di marketing per cui sappiamo dove vogliamo andare, come e cosa proporre. Grazie